Una pattuglia speciale di vigili urbani per il controllo del centro storico è stata istituita a sala consiglina per garantire maggiore sicurezza nelle zone della città difficili da raggiungere con i veicoli. Si tratta infatti di una squadra piedata che il capitano della polizia locale, Salvatore della Luna Maggio, ha destinato alla sorveglianza del centro storico. La parte antica della comune salernitano non è di facile accesso alle auto. In alcuni tratti le strade sono strette e ripide ma nonostante la sfortunata conformazione c'è chi la abita. Proprio per tutelare chi ha deciso di non abbandonare il centro storico mantenendolo in questo modo in vita, la nuova amministrazione comunale ha ordinato al comando di polizia di prevedere controlli periodici nelle diverse aree della zona storica. Ed è così che è nata la speciale pattuglia di vigili urbani. Si tratta di un segnale di vicinanza ai cittadini che vivono nelle aree più svantaggiate, spiegano il vice sindaco con delega alla viabilità Bartolo Lettieri e l'assessore al centro storico Antonio Santarsiere. Gli agenti avranno il compito di segnalare agli uffici competenti eventuali anomalie e attivare azioni per la prevenzione di reati di varia natura. In questo modo, concludono Lettieri e Santarsiere, riusciremo a garantire sicurezza e miglioramento della qualità della vita anche a chi risiede nel cuore della città.